Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gian Natasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. La viabilità cittadina a Firenze in viale Belfiore chiuso per lavori il controviale tra i numeri civici 6C e 4. Chiudiamo con i treni a causa del rinvenimento di un cadavere tra le stazioni di Ponte d'Era e San Romano. La circolazione sulla linea è momentaneamente interrotta. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!